Dai Enrique, prima iniziamo, prima finiamo. Io sono pronta. Dai, azione. Buongiorno e benvenuti alla fattoria didattica Io non pago le uova, pss ti ho spento. Qui offriamo la miglior vacanza per i ragazzi che hanno una vera passione per la natura. Ma andiamo a vedere. Qui alla fattoria non pago le uova, pss ti ho spento. Facciamo il miele migliore del mondo. Il nostro segreto? Amiamo le api e le api amano noi. Chi ha inventato l'acqua? Ora deve essere ricco. L'igiene alla fattoria non pago le uova, pss ti ho spento, è fondamentale e tutti si lavano con cura. Siamo in Tibet? Non credo proprio. Nella nostra fattoria si può provare il ponte tibetano senza paura e in completa sicurezza. E allora? Cosa state aspettando? Chiamate subito il numero in sovrappressione per prenotare. Dalla fattoria non pago le uova, pss ti ho spento, è tutto. Alla prossima! Stop! Era buona? Sì, santa, come sempre. Oh, andiamo a mangiare una cosa, va? Ciao! Grazie a tutti.